Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video e benvenuti nel mio capodanno! Eccomi! È proprio il mio, eh! Mio personalissimo capodanno! Oggi è 31 dicembre, siamo alle 4 del pomeriggio e qui inizia il mio capodanno e voi mi terrete compagnia perché io a capodanno sto a casa, da sola! Yeee! Ma in realtà, raga, io sono molto felice di questa mia scelta! E yeee! È vero, io sono molto felice di questa mia scelta! Non ci sei, tu stai uscendo! No, non è vero! Sì, è vero! Non è così perché fa freddo! Fa freddo, in effetti, adesso accendiamo la stufa! Ma infatti! Però io ho deciso di passare il capodanno, nonostante avessi dei posti dove andare, ma preferisco stare a casa perché i gagnolini ci hanno paura, soprattutto Matilde, visto che qua già sparano da una settimana, non so, pure prima pensavo che fosse scoppiata la terza guerra mondiale! Quindi io ho deciso, come tra l'altro ogni anno ormai, di stare a casa! Sto a casa da sola, ma voi mi tenete compagnia perché tanto so benissimo che posso scrivere su Instagram, fare storie, voi mi rispondete e poi chiacchierò con voi! Posso guardare i capodanni di tutte le piazze comodamente sedute sul mio divano e posso fare compagnia ai cani, ma soprattutto mi sono fatta una bella spesa che avete già visto nel wikivlog, ma ora vi faccio vedere che cosa tiriamo fuori, perciò ci prepariamo una super cenetta, abbiamo una bella bottiglia di vino, sarà un capodanno bellissimo! Invece dove va Bubino? Solo qua, Bubino se ne va! Vabbè, perché Bubino lavora! Stasera suona a strozza capponi e vediamo se ci porta del materiale per integrare questo video con il suo capodanno! Vabbè! Ce la farai, amore? Questo è per testimoniare che io gliel'ho chiesto di fare dei video! Almeno faccio vedere che ti magni! Sì, sì! E soprattutto Bubino ha cambiato di nuovo colore di capelli! Questa settimana è la terza volta, ragazzi! No! Puoi farci vedere? È sempre uguale! No, non è vero! Ecco qua, adesso è bianco e nero! Perfetto! Ogni giorno un colore diverso, siamo passati dal rosa, anzi siamo passati dal giallo iniziale, poi siamo arrivati a rosa e giallo, cioè rosa e bianco, castano bianco, nero bianco, quindi questa settimana sono quattro colori! Hai preso tutto, amore mio? Ho preso tutto, amore mio! L'asta? È macchina! Dell'iPad? È qui dentro! I vestiti, c'è tutto, il beauty l'hai preso, è pure vero che vai a un chilometro e mezzo, quindi potresti anche tornare a casa! Lo sto viaggiando, sto andando a litorno! No, però vabbè! Ho anche presonato, insomma! Buon anno, amore mio! Buon anno! Ragazzi, siete pronti per la festa? Oh! Ragazzi, siamo rimasti noi, eh! Dai! Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe Matilde con me e poi voglio vedere se qua non magno però state così eh voglio proprio vedere eh? allora per cominciare i festeggiamenti intanto mi sono messa il maglione rosso però poi c'ho l'outfit di capodanno che è proprio l'outfit ufficiale del mio capodanno quindi dopo vi faccio vedere il mio outfit ufficiale di tutti i miei capodanni perché in realtà questo non è il primo capodanno che passo da sola praticamente 2018 quando c'è stata la fine del mondo? 2019 quindi la fine del mondo c'è stata nel 2019 quando è il 2020? non mi ricordo vabbè il capodanno prima della pandemia Luca ha suonato in una piazza in Toscana quindi lui se n'è andato io dovevo andare con degli amici in realtà poi stavo male avevo la febbre e quindi sono rimasta a casa con i cagnolini e sono stata benissimo tra l'altro i miei amici che si sono lamentati tutto il tempo di quanto faceva schifo il posto dove erano andati quindi io sono stata super felice di essere a casa i due capodanni dopo Luca non ha più suonato perché c'era la pandemia non si poteva festeggiare non si poteva fare feste uno proprio zero l'altro ancora peggio perché poi era riscoppia tutto il casino quindi i due capodanni li abbiamo passati insieme a casa poi l'anno scorso si poteva rifesteggiare quindi l'anno scorso Luca suonava solo che io sinceramente ero stata così bene nei tre anni precedenti a casa tra l'altro c'abbiamo Matilde che c'ha veramente il terrore e quindi ho detto ma sai che c'è? ma io sto a casa tra l'altro qui c'era il capodanno in piazza della Rai quindi sarei potuta andare in centro c'havamo gli amici che stavano in centro però ho detto ma io lo posso vedere completamente seduta sul divano quindi ho visto il capodanno della Rai seduta sul divano anche perché avevo lavorato fino a tardi top sono stata benissimo ma ero presa al sushi da sport c'è il video dell'anno scorso ma ero presa al sushi da sport ero stata sul divano benissimo ok quando quest'anno mi hanno detto dai vieni con noi vieni con noi vieni con noi ma sapete come? ma io sono stata così bene in questi anni perché cambiare questa tradizione e quindi ho deciso che pure quest'anno tanto ci siete voi che mi fate compagnia ma dovevo andare girando a fare cose io so che asa mia con il mio outfit ufficiale del capodanno ma donna quando passi da qua questa è la luce che ho scelto io no? perché cioè io amo la luce fredda a casa mio marito invece ha comprato ste lampadine gialle guarda qua come se sta bene o poi cambio hanno lampadine nuove come cominciamo quest'anno nuovo lavando i piatti? così dopo possiamo cucinarci la cena anzi io direi di prepararci anche un aperitivo per più tardi quindi ora comincerò l'anno nuovo cioè la fine finirò quest'anno lavando i piatti perché bisogna lasciare le cose in ordine per l'anno nuovo quindi adesso lavo i piatti questo ve lo risparmio perché insomma io che lavo i piatti non è una grande scena ciao ragazzi è il capodanno e anche io faccio un bel bel video di capodanno perché il mio capodanno è differente da quello di bucchina perché il mio capodanno è sempre in musica sì quindi abbiamo finito il soundcheck e come potete vedere qui dietro c'è un piccolo banchettino che infatti quasi quasi così così mi ci butto perché ho un po di fame niente questi molto intimi siamo molto intimi questo è il posto per parlare qui in mezzo saremo una settantina le persone quindi ovviamente c'è l'open bar dopo dopo cena vediamo classicissimo capolanno classico ed è questo il palco tutto con i palloncini ed ecco un piccolo aiuto perché io già ho sonno ma no resisterò e faremo la mezzanotte insieme quindi da da il mio energy euro spin con cannuccia che non sta giù stai giù cannuccia maledetta ok chiudiamo l'anno in bellezza oh yes ora non ho detto ciao ragazzi ora mi sto per cambiare signori in questo splendido bagno però è veramente un bagno nuovo di pacca quindi è splendido davvero ora mi cambio e niente e poi vi faccio vedere questo vestito in questa serata di gala signori guardate come sono vestito come sono come sono chic si vede poco ma si vedeva giordano ancora giordano è vestito già a giordano è vestito ma giordano perché è sempre molto da commercialista 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 vestito di nero però come potete vedere guardate che differenza io e giordano guarda giordi commercialista e io showman commercialista showman altra cosa bugi che dici bugi insieme io sono da montagna invece montagna ma non quello che vende macchina c'è sempre il salito ruzza lo conoscete lui è l'uolo telecamera e vabbè grandi raga dopo vi sicuramente vi farò vedere che cosa mangiamo è arrivato il momento di prendere in mano questo capodanno a parte che ho appena fatto un tik tok che fa un sacco ride però tipo c'è l'audio quindi io l'ho messo su tik tok cioè nel senso se ve va andate ma segui su tik tok ma solo per vedere questo tik tok cioè fa troppo ride regà veramente c'è un audio che è virale tipo quest'anno no che tutto pronto papete sulle mani ho fatto coi cani fa un sacco ride comunque è arrivato il momento di prendere in mano la situazione e cominciare a preparare quella che sarà la nostra spaziale cena del capodanno quindi adesso la cucina è pulita perché ho pulito prima non troppo perché comunque bisogna mantenere e buone abitudini della vita non troppo ordine in questa casa quindi adesso cominciamo a prepararci la cena perché sono tipo di sette e mezza quindi è arrivato penso il momento di achitta tutto quello che ci serve per la cena ma prima mi cambio no l'outfit dopo perché un outfit speciale ma se ci siete da qualche anno già lo conoscete perché è di tradizione è un outfit di tradizione molto elegante e però dopo dopo adesso prepariamoci questa cena a parte che già stanno esplode sembra bagdad fuori io devo fare uscigani perché poi dopo a mezzanotte non è che posso fare uscigani quindi devo uscire adesso ma adesso già si spaventa madilde vabbè mi troverò una soluzione uscirò con loro perché così almeno tanto rimaniamo nel giardino perché fuori non li porterò mai stasera ci ammetti che mi si sgancia no 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 allora cominciamo a chitta la situation vediamo che cibo abbiamo da mangiare soprattutto allora il menù per la serata prevede quello che c'ho è questo poi decidiamo cosa fare avocado sperando che sia buono c'è un avocado che fa schifo oggi no lo puoi fare fanno schifo gli avvocati tutto l'anno no non va bene spero che sia buono anche perché ho pagato due euro uno sono andata all'emisfero quindi speriamo che sia buono poi qui abbiamo che ci abbiamo qua molto molto importante del salmone norvegese eccoci scusate la brusca interruzione ma ci ha chiamato luca che sta facendo il suo capodanno e forse ci sta anche facendo vedere cosa fa quindi dicevamo salmone norvegese norvegese capito quello in offerta all'euro spin in pratica poi qui abbiamo dio che è che mi ero presa per far capodanno a parte l'alcol qua e mica mi ricordo ha c'ho anche la mousse la mousse ma soprattutto dell'insalata di mare autentica proprio de mare proprio viene dal mare e poi c'ho le vongole poi c'ho il burro per fare le tartine e anche o mamma questo che è il pane ma anche qui me la scantesta tutto sappiatelo e anche questo le spuntinelle per fare le tartine burro e salmone io volevo fare queste burro e salmone però c'ho questo che è molto buono faccio tutte e due l'avocado ce lo metto sì ci metto perché porta bene non so porta bene l'avocado forse no cioè nel senso non è una di quelle cose che portano bene però nel 2023 se apri un avocado è buono sei stato fortunato quindi poi le lenticchie non ho pensato le lenticchie oh mio dio ci saranno qui sotto delle lenticchie scusate arrivo subito a vedere se ci saranno le lenticchie qui sotto ok ho trovato delle lenticchie raccolte a mano da contadini di non so dove eccole pratico barattolo quindi cuocio anche queste da mangiare a mezzanotte rigorosamente con le mani perché le lenticchie portano bene e portano soldi se te le mangi con le mani o almeno così faceva mi nonna e io chissà per contraddimmi nonna nessuno quindi mangerò con le mani ok allora poi c'ho i spaghetti con le vongole però quelli li farei più tardi allora il problema è qui è questo se io comincio a mangiare sette e mezza hai otto e mezza ok poi io ma biocco sul divano matematico sto da sola c'è una bottiglia di vino se mangiare otto e mezza ma biocco sul divano visto che ho fame ma non ho troppa fame io direi di aspettare un pochino nel senso potrei cominciare a preparare così mi faccio il piatto degli antipasti ma poi lo parcheggio e lo mangio più tardi e poi faccio anche la c'è faccio il piatto degli antipasti adesso poi lo parcheggio più tardi faccio anche la pasta e poi mi mangio prima gli antipasti e poi la pasta ovviamente non avrò un secondo perché anche no cioè voglio di e perché sto da sola già se faccia la pasta e e quindi adesso io acchitto il piatto capito carino tutto con le bruschette le tartille così e poi faccio qualcos'altro mi cambio e poi mi faccio la pasta così mangio più tardi cioè l'obiettivo sarebbe quello di mangiare verso le nove e mezzo anche le dieci perché così almeno cioè con calma mangio più tardi arrivo a mezzanotte senza addormentarmi luca non so che ora tornerà luca tornerà ai 4 ai 5 che ne so perché su sto posto dove praticamente funziona così mo c'è la cena c'è il cenone poi dopo cena comincia la musica fanno mezzanotte poi c'è l'open bar arriva altra gente raga cioè tornerà tardissimo io intanto dormirò perché mezzanotte 40 tempo di scambiare auguri di rito e poi dormo cioè chiaro ma poi mi sveglio quando torna luca magari facciamo colazione insieme poi se riesca ri addormentarmi bene sennò pace tanto non so abituata svegliarmi presto quindi va bene così e vabbè comincio a preparare il piatto degli antipasti raga 2023 un successo per l'umanità mi sono accorta che il burro dell'eurospin adesso c'ha l'apertura facilitata tipo i pacchi di amazon fantastico ma bravi come se apre man se apre non è vero cioè se l'aletta la mettete sotto a questo che rimane attaccato rimane attaccato comunque sciocchi ci avevo creduto per un momento mi è rimasto pure incollato le mani adesso ho due pezzi di carta che girano ero meglio prima va bene adesso questo io lo sciolgo perché non voglio tostarlo questo pane non ha senso tostare questo pane mi piace così quindi io adesso questo qui lo sciolgo e poi lo spalmo su quel pane con il pennellino di silicone sono intelligente sono così intelligente noto con piacere però che nel 2023 resta impossibile tira fuori una sola fetta di questo pane dalla sua busta ovvio impossibile cioè lo tiri fuori tutto o niente tutto vabbè vabbè il momento la verità mangerò dell'avvocato penso di sì direi di sì però vale i suoi due euro va bene però lo faccio penso a fettine lo faccio a pappetta visto che la mousse al salmone è chiusa e invece questo ce l'ho aperto ed è ancora buono ne manca poco io finisco questo invece che la mousse al salmone tanto il salmone lo metto sopra quindi le altre alcune faccio burro e salmone le altre le faccio con questo e salmone e avocado ecco a voi il mio antipasto di capodanno ve lo dico fa un po tristezza però questo facevano pagare meno 20 euro al ristorante invece qua è poco perché il salmone era un'offerta quello che costava però l'avvocato ho messo su anche le lenticchiette così per mezzanotte sono pronte non sono troppo calde perché poi mi brucio se devo mangiare con le mani quindi non devono essere calde perciò le faccio adesso ma tanto sono già cotte perché non è che io mi sono messa a spurciare le lenticchie per vedere quali erano buone scatola e vai allora l'antipasto è pronto quello è pronto devo solo mettere sull'acqua e fa i vongole e ho i spaghetti con le vongole quindi direi che sto a un buon punto però è presto se sono fatte otto e cinque cioè troppo presto troppo presto quindi mangio più tardi però io direi che è arrivato il momento di mettermi il mio outfit di capodanno outfit di capodanno check eccomi e come ogni anno ho il mio pigiamone animaletto di solito c'ho la giraffa o non so riuscire a trovarla non so dove ho messa quindi quest'anno abbiamo una sorta di pokemon non lo so magari l'anno prossimo mi evolvo se mi vesto così chissà niente come tutti gli anni questo è l'outfit del capodanno ragazzi sta comodi caldi e soprattutto è fashion ma soprattutto è tutto uno quindi non devi pensare che ti mette sopra che ti mette sotto senza paillette senza tacchi si vola si vola allora le lenticchie sono quasi pronte però fa caldo così in cucina quindi questo lo vediamo l'antipasto è pronta le lenticchie sono pronte posso mettere sull'acqua aspetto ancora un po' forse aspetto ancora un po' è vero aspetterò un po' per mangiare ma è arrivata l'ora di aprire questo oh è alla fine è pur sempre capodanno fossi andata a ballare o a mangiare fuori adesso mi stavo bevendo un bel calice di vino non trovo l'apri bottiglie ok c'è solo questo apri bottiglie e non so se so usarlo cioè vabbè sì in qualche modo farò però io preferisco quello colomino con le braccia sa che fino a fatto ci avevamo me la sono sudata mi so pure fatta male a una mano ma abbiamo il vino aperto oddio allora bicchiere vino salute spero sia buono almeno non so vediamo molto buono sono le 8 8 e 5 signori quindi adesso dopo vi farò vedere da mangiare cosa c'è cosa non c'è giordi vuoi dire qualcosa vuoi lasciarci una tua perla mia perla no io non ho perla ma sono diamanti ovviamente io siccome non sono bravissimo a fare lo youtuber e lo dimostra il fatto che ho una telecamera sporca e la gente alla mia sinistra sembrano dei fantasmi però detto questo non vi ho fatto vedere che cosa ho mangiato ma ve lo spiego fino adesso ve lo spieghiamo allora come antipasto che cosa abbiamo mangiato giordi erano molti molti antipasti sì cosa c'era c'era il crostino al salmone sì c'era il bulevan al tonno bulevan al tonno sì c'era una sorta di frittatina ai carciofi no frittatina ai carciofi c'era sì poi c'era la bresaula bresaula con rucola e grana poi non ricordo no c'era qualcos'altro ma non mi ricordo e vabbè c'era il classico antipasto buono ah c'era una crocchetta una sorta di supplice buono e come primo che cosa abbiamo mangiato giordi ravioli, tartufo e panna ravioli, tartufo e panna senza parmigiano no grazie no grazie e noi ragazzi ringraziarvi e dopo vi facciamo vedere il secondo primo abbiamo fatto la prima parte così d'ascolto per dare un attimo un po' di movita dietro c'è questo tavolo di signori che loro non si sono mai alzati però hanno un granito quello è tutto il posto per ballare questo io ragazzi per adesso ah ecco aspetta scusate vi faccio vedere che cosa sto mangiando Arista con asparagi filetto di taccinella con fagiolini croccanti Francesco Miceli ci sta spiegando che filetto di taccinella all'arancia con fagiolini croccanti codesta signori e quindi buon appetito a noi e ci vediamo tra poco ragazzi ho proprio niente da fare ho fatto un altro tiktok divertentissimo aspetta lo metto qua penso devo che lo mette fa molto ridere salute io si forse se finisco la bottiglia ne faccio anche un altro non lo so ma vi dirò allora il Capodanno è sopravvalutato anche perché qua in tutto questo sta anche piovendo quindi tutti quelli che saranno organizzati per andare in centro perché in centro c'è tipo il Capodanno con la discoteca c'è stanno i dj che suonano in piazza pieno l'acqua cioè per ora prendono l'acqua perché adesso piove poi non so se più tardi smette però è tutto bagnato l'umidità io ho una certa età il Capodanno è sopravvalutato certo se c'era Luca e stavamo insieme a casa era meglio è chiaro però alla fine Luca lavora lo sapete io l'anno scorso sono stata benissimo a casa adesso mi metto il Capodanno non so se perché quello di Raiuno è un po' old cioè l'anno scorso era a Perugia carino quest'anno però forse guardo quello di Canale 5 comunque mi metto il Capodanno di piazza mi finisco la bottiglia di vino tra un po' mangiamo faccio un paio di storie su Instagram così mi fate compagnia cosa starà facendo Luca? non lo so vi dirò vi dirò di più mi guardo anche una puntata di Elisa True Crime anzi mi vado a prendere l'antipasto perché intanto si sono fatte quasi le 9 mi guardo Elisa True Crime così se fanno le 10 e un quarto top top perfetto vado a prendere l'antipasto eccomi con il mio antipasto allora assaggiamo l'insalata de mare intanto dignitosa per quello che costa buona mi piace in quella dell'Eurospin poi tartinella tartinella perfetto vedete c'è anche la compagnia qua perché in casa mia da sola non stai mai mai devo dire che gli altri dormono Matilde dorme lì spero che non si spaventerà troppo Billy dorme in camera ma tanto quello non ci sente quindi non dovrebbe essere un problema e mo mi guardo Elisa ho messo canale 5 ho visto 5 minuti 5 di pubblicità e poi una cantante che non conosco non lo so e ho cambiato mi sa che mi vedo un altro episodio dell'Esa True Crime comunque gli spaghetti con le vongole non li ho fatti alla fine non so ho fame cioè quelle tartine mi hanno abbottato alla fine mangio un'insalata de mare tutte quelle tartine boh cioè lenticchie a mezzanotte mi sa che non me li faccio gli spaghetti con le vongole il bello di stare a casa e che decidi tu quello che fai come lo fai quando lo fai cioè io sono a bomba sto col pigiamino sul divano i cagnolini sto a chiacchierare con voi su Instagram perché un sacco di voi mi stanno a scrivere perché non sono l'unica che sta a casa quindi cioè serata top serata top veramente serata top poi mi tra un po' fa mezzanotte e ma scappa sotto il tavolo poi mi faccio un pisolino anzi ma biacco sul divano che c'è qualcosa di meglio di dormire sul divano non credo poi quando arriva Luca io preparo la colazione top serata perfetta oh ciao piccoletta vedi io non sto mai da sola fatevi un cane però magari fatevelo meno rompiscatole dei babbi ovviamente ancora non è mezzanotte mancano tre minuti manco trenta secondi tre minuti so se sentite fuori vabbè a babbi mi interessa qui si è nascosta Matilde cioè non lo so io non ho parole 2023 ma poi buttate via i sordi ma lasciate perde boh ma sentite che roba mancano ancora tre minuti dieci nove otto sette sei cinque quattro tre due uno auguri buon anno buon anno papina buon anno Matilde è nascosta billy dorme secondo me non ha sentito niente ma tanti auguri spero che stiate passando un capodanno felice io mo mi mangio le mie belle lenticchie prima vado a lavare le mani perché mi hanno appena leccato il cane ma va bene le lenticchie mi raccomando con le mani diceva nonna mi raccomando e niente devo dire che Matilde quest'anno si è nascosta qui non sotto al tavolo secondo me perché ci sente meno ma va bene fuori c'è l'apocalisse ma già da un bel po' quindi ormai ci siamo abituati anzi l'hanno finiti prima quindi poi piove state sul terrazzo a sparare i fuochi vi viene l'influenza e poi non vi lamentate in tv non lo so c'è qualcosa di parecchio triste ma va bene quindi dal mio felicissimo capodanno è tutto e noi ci vediamo grande finiamo in bellezza al prossimo video ciao ciao